buonasera a tutti allora in questo nuovo video vi volevo mostrare come realizzo i mini travi per il soft casting con un semplice ago per innesco la realizzazione è veramente molto semplice e come materiali ci servono ovviamente l'ago per inneschi che io uso quello con la punta arancione perché è più spesso degli altri quindi è perfetto per questa cosa delle girelle delle perline vabbè qualsiasi tipo di perlina questo erano ad esempio dei braccialetti poi delle pinze con la punta tonda e delle pinze normali sia per tagliare che per piegare bene in metallo e le guaine termostringenti in genere uso queste da due poi vi farò vedere come prendete l'ago e tagliatelo a circa 10 centimetri tanto gli aghi sono sono tutti da 30 centimetri quindi con un ago si riescono a fare tre mini travi una volta tagliato prendete un pezzo e con le forbici rotondate fate un asolo così poi prendete una girella tanto ne prendo due perché tanto che servirà anche dopo prendete la girella e infilate dentro così poi con l'altra pinza chiudete bene tutto quanto poi vedete la guaina termostringente tagliatene un pezzetto giusto per coprire tutto quanto infilatela fino alla girella così fino ad arrivare a quest'altro anello sopra e poi con un accendino la scaldate bene ok e questo è il primo passo poi prendete due girelle due girelle scusa due perline e mettete perlina girella poi sempre con la punta tonda fate un'altra asola come avete fatto sotto stringete sempre con l'altra pinza e poi prendete un altro pezzo di guaina tagliate sempre a misura e lo mettete e lo mettete così facendo uscire un po' l'asola la riscaldate però mi raccomando non la scaldate tanto perché sennò si attacca date giusto una riscaldata il tempo che si ripira un po' ok e questa quando dovete mettere il piombo basta che la tirate indietro mettete il piombo e richiudete si ferma da sola e non si apre ecco fatto semplice 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 abbiamo messo meno di un minuto questa è quella originale questa è l'originale e questa è quella appena fatta praticamente uguali grazie per aver guardato il video se non l'avete fatto iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace ciao ragazzi grazie alla prossima